Una posizione chiara sul calcio storico e sulle questioni fondamentali per la sua valorizzazione. Lo chiedono in una lettera aperta a tutti i candidati sindaco di Firenze, i presidenti dei quattro colori. Una richiesta congiunta per avere chiarezza proprio sui punti chiave da affrontare con urgenza. Nello specifico la costituzione della fondazione che dia sistematica continuità ad un impegno che non può più fondarsi solo sulla buona volontà ma che necessita di programmazione e di investimenti economici adeguati. Inoltre l'attivazione del consiglio per le feste e le tradizioni fiorentine organo garante di una miglior regia e collegialità delle decisioni mai reso operativo come invece prevede il regolamento comunale. Non ultima infine la tutela del brand calcio storico volano di operazioni di marketing territoriali che deve essere protetto da regole definite. Diverse questioni aperte dunque che il nuovo sindaco che i fiorentini sceglieranno il prossimo 26 maggio sarà chiamato subito ad affrontare. In questo istante finisce con la vittoria dei Rossi di Santa Maria Novella.